grazie anna camposaniero membro della segreteria di rifondazione comunista ha accompagnato il segretario del partito della rifondazione comunista l'altro ieri ad ancara dove si è tenuto il congresso del hdp il partito dei popoli turchi e diciamo l'occasione ghiotta è quella di parlare un po non solo del congresso della situazione in turchia ma proprio in questi giorni oggi e draghi ad ancara ad incontrare quello che aveva definito un dittatore e rimangiandosi quelle parole provando a ristabilire contatti che non sono in realtà mai mai terminati sia economici che politici con la turchia di epoca con un'idea tua di come hai vissuto quei giorni come pensi che possa evolvere la situazione ma è tanto grazie a transform che come sempre dà l'opportunità di raccontare cose che normalmente sono un po fuori dai radar mainstream diciamo questo congresso il quinto congresso dell'hdp appunto del partito dei popoli è cascato in un momento storico molto particolare sia per loro che per noi perché appunto pochi giorni prima abbiamo visto il summit della nato a madrid che ha sancito l'ingresso dei due nuovi paesi nordici svezia e finlandia in cambio diciamo di un atteggiamento più più di condanna rispetto alle persone kurde che sono rifugiate in questi paesi che il prezzo che ha chiesto erdogan per ottenere questo risultato viceversa come dicevi giustamente tu pochi giorni prima della visita di mario draghi in turchia e a pochi mesi dalle elezioni turche perché l'anno prossimo si voterà in turchia questo un po il panorama in cui questo quinto congresso si è collocato poi rispetto a quello a cui noi siamo abituati la battuta con cui maurizio acerbo aveva definito due anni fa quando siamo stati sempre ad ancara al loro congresso era non è un congresso è un popolo il partito dei popoli questo rappresenta di fatto no quindi rappresenta proprio un insieme un'idea di mettere insieme popolazioni di diversa religione di diversa etnia di diversa origine che rappresentino quella parte di paese che invece erdogan tende a reprimere a zittire in particolare la popolazione kurda allora è chiaro che noi come rifondazione comunista che abbiamo da sempre un rapporto di solidarietà e di internazionalismo con la popolazione kurda sia in italia che appunto in turchia insieme a quella sinistra turca armena e di vario tipo che cerca di avere una visione di un paese democratico il congresso è stato aperto da la portavoce la copresidente pervin buldan che ha detto noi oggi stiamo parlando di democrazia in un paese che è costruito sul fascismo dando proprio una definizione chiara quindi è chiaro che per noi la visita di draghi già draghi non ci rappresenta normalmente diciamo però in particolare in questo frangente di grandissima ipocrisia in cui abbiamo sentito il ministro guerini dire che un conto sono i combattenti che hanno appunto lottato contro l'isis contro il jihadismo e un conto è il pkk che invece è un'organizzazione terroristica dimostrando anche una notevole ignoranza nel senso proprio di non conoscenza di quello di cui stava parlando o appunto di una discreta dose di ipocrisia ecco noi dentro questo quadro non ci stiamo e pensiamo che tutti quelli che si definiscono anche sinceri democratici dovrebbero rendersi conto che di fronte alla narrazione tossica che viene fatta nei confronti della guerra all'ucraina viene poi accettata invece la collaborazione con l'egitto con la turchia l'egitto di regia per capirci con la turchia appunto di erdogan che faccio presente il congresso è finito domenica sera ed ieri la notizia che è stata rilasciata sul sito dell'hdp quindi è pubblica che eh sono già partite denunce e arresti delle persone che hanno partecipato al a questo quinto congresso con l'accusa di aver eh utilizzato slogan terroristici durante il congresso io durante il congresso ho sentito parlare di pace di giustizia sociale di giustizia ambientale di voler partecipare democraticamente alle elezioni e di voler dare la voce a tutta quella parte di popolazione che oggi non ce l'ha ricordo che due anni fa quando sempre con Maurizio Acerbo siamo stati al congresso avevamo incontrato Leila Guven che era la coportavoce insieme a Dimitras entrambi sono in galera entrambi Leila è stata arrestata pochi mesi dopo e quindi appunto no la queste sono le persone che che il ministro Draghi e la scusa il presidente del consiglio Draghi e la stuola i ministri stanno andando ad incontrare oggi in Turchia legittimando un rafforzamento di Erdogan che non era assolutamente necessario e che utilizzerà anche di fronte a un paese che sta vivendo una grandissima crisi economica. ringrazio non so se ci sono prospettive per l'HDP quali sono le intenzioni di voto se ci sono come come pensi possa evolvere la situazione adesso oltre chiaramente a queste incarcerazioni preventive. sì l'HDP ha anche sulle spalle un processo in corso che sempre democratico Erdogan sta portando avanti per dichiararlo fuori legge adducendo il fatto che il vincolo che ha con il PKK lo classifica automaticamente eh allo stesso livello di organizzazione terroristica quindi stanno cercando di mettere fuori legge l'HDP eh i tentativi di zittire questa parte di popolo notevole vengono sono vengono da lontano Erdogan ci aveva provato innalzando il tetto di sbarramento al dieci per cento per l'ingresso al Parlamento e l'HDP l'aveva superato col dodici mi dicono che dalle intenzioni di voto si aggirano attorno al quindici sedici per cento ripeto io ho sentito i discorsi di apertura e di chiusura del congresso in cui la linea politica è una linea di eh volontà di rappresentare non solo i kurdi chiaramente ma di rappresentare tutta quella parte democratica che non si riconosce nel regime di Erdogan e quindi con ehm chiaramente non può esserci pace senza giustizia sono più di quattromila eh i detenuti militanti dell'HDP più una quarantina di membri eletti dico sindaci di parlamentari quindi una violazione anche no della volontà popolare non non indifferente eh quindi c'è una buona aspettativa in termini di consenso elettorale ma altrettanto c'è una pessima aspettativa di criminalizzazione e di persecuzione. Anna grazie per questo contributo eh non ti tengo più al telefono o in video perché so che devi fare altre cose il ringraziamento non è soltanto formale ma veramente un grazie per essere stata lì e per aver rappresentato una piccola parte d'Italia che che poi tanto piccola non è perché non vediamo dai sondaggi anche a grande parte la maggioranza italiani pensa che questo modello di relazioni eh tra i popoli e tra gli stati sia del tutto eh sbagliato e quindi vada ripensato. Grazie ancora. Ripeto grazie a voi e ricordiamoci che il popolo kurdo non va lasciato solo assolutamente. Grazie. 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 Grazie a tutti